Alessandra, dove siamo? Siamo a Roma. E dove? A Trastevere. Dove? Al museo della fotografia. Sì, non è proprio, però c'è una mostra. C'è una mostra di un fotografo importante turco che si chiama Guler. E niente, c'è la parte dove fa vedere sempre la Turchia, gli altri paesaggi, però la parte bella, secondo me, sono i ritratti di Hollywood. Insomma, quello che io metto la mattina supera, però qui ci sono registi, attrici. Ida Lupino, un'attrice, un'attrice, anche attrice. E poi altri luci, Zavattini, insomma. La cosa strana è che non c'è nessuno, è totalmente vuoto, ti misurano la febbre, poi insomma tutte le storie ti fanno lavare le grazie.